Bianconeri, sulle cente, è forte la Juve! La Juve è fede, amore e passione. Seguila con la Juventus Club Lizzano Bianconeri. Vieni a vedere con noi, a Torino, Juventus Chievo Verona. Ventesima giornata di campionato, lunedì 21 gennaio, ore 19. Viaggio di andare in ritorno più biglietto stadio. Prezzi scontatissimi. Per informazioni, Juventus Club Lizzano Bianconeri, piazza Matteotti 22, Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio, 348-808-8803. Cristian, 349-680066. Giuseppe, 347-0417-623. E sempre Forza Juve, fino alla fine!